Andrea, sono 500, ecco un numero grandissimo, un numero importantissimo, un numero che ovviamente ti porta nella storia del calcio in generale. Non esageriamo, è una grande soddisfazione perché è un traguardo che comunque fa capire quanto uno si impegni, quanto uno abbia cercato di essere presente dovunque sono stato e quindi per me è una grandissima soddisfazione ed è una soddisfazione grossa e non lo dico per compiacere ma condividerla con questo gruppo perché devo dire la verità ho incontrato dei compagni di squadra eccezionali e credo che non a caso i risultati che vedete sul campo anche durante la sofferenza, però dimostriamo compattezza e dimostrano che siamo veramente un grande gruppo e quindi condividere dei traguardi importanti in spogliatoi dove si sta bene vale molto di più. Partita importante, partita di sofferenza sì, poi il gol di Alessandro Mastalli la indirizza su un altro binario, va all'occhio alla chiude ma come ne si è anche superata? Ma sì, noi sapevamo che era una squadra che soprattutto all'inizio ci sarebbe venuta a prendere molto aggressiva e quindi dovevamo avere pazienza e queste sono partite strane che magari domini e rischi anche di perdere magari alla prima occasione se non stai attento quindi ci vuole sempre concentrazione, non ci vuole frenesia perché sono squadre che vivono sull'errore avversario e quindi meno se ne commettono anche a costo di sembrare monotoni nella manovra, però se ce l'hai te non ce l'hanno gli altri quindi il gol non lo prendi. Ci sono stati bravi, complimenti a Mastalli che comunque a volte le partite si sbloccano su degli episodi e gli episodi bisogna avere i giocatori che te li fanno girare dalla parte giusta, quindi bravo lui, bravi noi a tenere botta anche nei momenti difficili e ci portiamo a casa questo risultato che per noi era fondamentale. Ecco non ci si può fermare, non ci si ferma mai, non si può neanche festeggiare, c'è subito il terreno prossima gara di campione. Ma guarda ti dico da un lato alle volte è anche positivo andare senza soluzioni di continuità perché comunque ti permette di restare sempre con la spina attaccata, alle volte le settimane lunghe magari ti fanno abbassare un po' la guardia, poi si fa fatica, quindi siamo in un momento positivo e cerchiamo di farlo durare il più possibile. Grazie a te. Niente.